E' Carolina Stramare la nuova Miss Italia 2019, la bellissima ragazza di Origini Lombardi, la numero 3 supera in finale la bella Serena Petralia della Sicilia e la padovana Semmi Fernando. Carolina dunque va a vincere l'edizione numero 80 di Miss Italia, il famoso concorso di bellezza per eccellenza, quella del ritorno della manifestazione in Casarai. Carolina Stramare era stata già eliminata in un primo momento ma poi recuperata per la finale dalla giuria tecnica andando a affiancare Serena Petralia e Semmi Fernando nella finale. E' riuscita a vincere, riuscita a sbancare, riuscita a ottenere la faccia come regina di bellezza incontrastata, questa ragazza così bella, così sexy e così affascinante. E' una vera e propria vendere moderna, mi sento di dire, per quanto riguarda la fanciulla in questione. Giovanissima è nata il 27 gennaio del 99 a Genova, un diploma in liceo linguistico, iscritta a un corso di formazione di grafica e progettistica all'Accademia delle Belle Arti di Sanremo in Liguria ed a creare un lavoro in qualità di modella. Complimenti dunque a lei, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate, questo video non vuole vedere la privacy di Carolina Stramare ma su rinformare eventuali persone. Complimenti a lei e un saluto caro da Leandro, un narratore italiano. Grazie. 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 Grazie.